L'ipotesi di avviare questo importante percorso legato ai contratti di fiume abbiamo voluto mettere assieme, c'è tutta la parte legata alle università, la parte ai ordini professionali, associazioni di categoria, mettere tutte le persone che hanno interesse a gestire questa parte importante del territorio che sono, come dicevo, i fiume e le coste, per fare delle cose, per mettere sotto una matrice comune tutti gli interessi che possono avere i vari enti a fine della tutela della salvaguardia del corso d'acqua. Questo lo facciamo per raffiancare a quell'altra importante operazione che stiamo facendo di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, che però per realizzare opere pubbliche sono operazioni estremamente lunghe e complesse, affianchiamo anche questa attività per puntare ad avere una gestione unitaria di questi tratti di corsi d'acqua, per rendere corsi d'acqua fruibili, sicuri e soprattutto per mettere nelle condizioni di avere una gestione unitaria nello stesso comparto dei corsi d'acqua.